Come funziona la Modern Authentication? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere dal punto di vista teorico che cosa si intende per Modern Authentication, la differenza da un'authenticazione classica con nome utente e password e quali sono i meccanismi e gli attori alla base che regolano questo meccanismo ormai fondamentale per la sicurezza delle nostre applicazioni in cloud e non solo. Eccoci qui alla lavagna, cerchiamo di fare quindi chiarezza su che cosa significa e che cosa intendiamo per Modern Authentication, cioè autenticazione moderna. Facciamo un passo indietro e capiamo bene prima la situazione, prima dell'autenticazione moderna. Allora abbiamo di solito, in un contesto più tradizionale, abbiamo due attori, li faccio un po' più in centro. Ecco, così abbiamo un client e poi abbiamo un server. Quello che succede è che di solito un utente che lavora con il nostro client, bellissimo questo vino, fornisce un set di credenziali al server tramite il client che di solito sono nome utente e password. Questo, per quanto semplicità implementare, magari era sconveniente dal punto di vista dell'utente perché per ogni server, possiamo immaginare anche dire per ogni applicazione, doveva ricordarsi una coppia di nome utente e password, sempre diversi. Anche a parità di nome utente, magari con la stessa email, la password, come best practice, dovrebbe essere sempre diversa e quindi dovremmo imparare tante password diverse oppure riutilizzare sempre la stessa che è un grosso problema di sicurezza. Con la modern authentication andiamo ad inserire un nuovo attore. Come sappiamo, tanti problemi nell'informatica si possono risolvere semplicemente aggiungendo un ulteriore livello di astrazione. Ed è quello che faremo, cioè metteremo un qualcosa in mezzo tra client e server. Questo qualcosa in mezzo lo piazziamo qui e lo chiamiamo IDP Identity Provider. Un ulteriore cambiamento che facciamo è quello di non scambiare più nome utente e password ma andiamo tramite il client a fare una visita all'identity provider per andarci a prendere quello che è un security token. Riusciamo ad ottenere questo token magari presentando come prima un mutente password però all'identity provider oppure un qualcosa di completamente diverso. Potrebbe essere un meccanismo tramite un'app authenticator sul telefono, tramite una smart card o un qualunque altro meccanismo morale. Esiste un contratto tra il client e l'identity provider che una volta che viene rispettato sgancia un token dall'identity provider verso il client. Un token appunto di sicurezza. Questo scenario sicuramente l'hai incontrato nella tua quotidianità. Quando apri un'applicazione web, un sito o anche un'app nello smartphone ti chiede di autenticarti e ti dà la possibilità di utilizzare per esempio la tua account Google, il tuo account Twitter, il tuo account Microsoft. In questo caso questi qui, questi tre che ho citato sono tre identity provider di cui la tua applicazione che stai utilizzando si fida e conosce, quindi ha la relazione di fiducia. Inoltre, quello che abbiamo ora è che il client presenta il security token e non più la coppia una mutante password al server. Ora, il server è in grado di prendere questo token di sicurezza e validarlo, cioè assicurarsi che sia un token di sicurezza appunto corretto e valido. E come fa? Lo fa perché ha una relazione di fiducia, una trust relation con l'identity provider. A questo punto cosa significa? Che il server potrebbe essere in grado di parlare direttamente con l'identity provider e chiedere di validare il token o più semplicemente tramite la conoscenza della sua chiave di criptografia pubblica è in grado di validare il certificato criptografico che accompagna il token e quindi ok, sappiamo che è un token valido che mi arriva da quel identity provider di cui io mi fido perché il token appunto è criptografato. Ma torniamo un attimo a focalizzarci sul token. Che cos'è il token? Il token non è nient'altro che un documento, è un documento criptograficamente cifrato e firmato che contiene all'interno delle informazioni sull'identità del client. Queste informazioni prendono il nome tecnico di claims. Quindi i claim non sono nient'altro che delle coppie attributo valore, chiave valore che ci raccontano qualcosa del client che potrebbe essere effettivamente una persona, un programma, un demone, un device un qualunque cosa a cui noi possiamo genericamente attribuire una identità. All'interno di questi claim, che potrebbero essere i più svariati, ne troviamo di ricorrenti e di più utilizzati. Uno che possiamo sicuramente nominare è il cosiddetto subject. Il subject ci contiene un id immutabile e univoco del client. Dico immutabile e univoco perché, per esempio, se io parlassi di me stesso per, per esempio, qualunque svariato motivo potrei cambiare il mio nome. Quindi non posso prendere il mio nome proprio come subject ma prenderò un id che viene generato dall'identity provider. Un altro claim molto comune che possiamo trovare è issued at che significa il quando questo token è stato generato. E poi abbiamo suo fratello, l'expired, l'expiration che ci dice la data in cui questo token scade. Un altro tra i token più comuni è quello che viene chiamato audience. e cerchiamo di capirlo un attimo. A che cosa serve e perché è utile. L'audience serve per indicare a questo server che il token è stato fatto proprio per lui e non per un altro server. Quindi immaginiamo un contesto dove abbiamo tanti server può essere server 1, poi server n con l'audience, il target audience sappiamo per chi è stato generato questo token. L'audience è molto importante perché impedisce di, al server 1, di far finta di essere il client e inoltrare il token a un altro server per autenticarsi. Mi rispiego. Senza l'audience, il server 1 potrebbe prendere il token e andare ad autenticarsi su server n facendo finta di essere il client originale. Perché non si sa, server n, non sa che in realtà quel token era per il server 1 e che gli è stato, diciamo, inoltrato da del codice malevolo. Ecco che quindi inserendo l'audience il server non può più far finta di essere qualcun altro perché nel caso il server 2 o il server 3 riceva un token che è stato fatto per server 1 lo prende e lo scarta. Dall'altra parte invece il server 1 quando vede il claim audience che corrisponde lo tiene e dice, ok, posso utilizzare questo token perché è stato fatto per me. Per oggi con la modern authentication ci fermiamo qui. Questi sono i mattoni di base, l'architettura di base che utilizzeremo per esaminare e imparare quelli che sono gli altri flow di autenticazione. Cioè delle varianti che si adattano in base agli scenari. Cioè se abbiamo un'applicazione web, un'applicazione per smartphone, un'applicazione desktop o un software Diamond che gira in background senza interazione utente. Nel frattempo se hai imparato qualcosa e questo video ti è piaciuto metti un mi piace, iscriviti al canale così sarai notificato sulle nuove uscite. Ciao!